Vincere è sempre bello, farlo all'esordio davanti al proprio pubblico e in rimontalo è di più. Gode l'ortige di Stefano Piccardo all'esordio in campionato, contro quinto arrivano i primi tre punti della stagione, un risultato frutto di tanta sofferenza ma altrettanto cuore. La sfida fra i biancoverdi e i genovesi, valevole per la prima giornata del massimo campionato italiano di pallannuoto, ha offerto agli appassionati uno spettacolo degno della Serie A. L'inizio non è stato affatto semplice per i padroni di casa, quinto ha subito messo la freccia portandosi avanti di tre reti e mostrando grande organizzazione. Tempesti e compagni però dimostrano di aver trovato il giusto equilibrio come si è visto in Euro Cup a provare ad acciuffare gli ospiti ci pensa Rossi, prima trasformando sul finire di primo quarto un rigore, dopo capitalizzando al meglio una superiorità numerica. Da lì un botte risposta entusiasmante a suon di gol con i locali che con coraggio e pazienza riprendono il match. Nella seconda metà di gara infatti la superiorità bianco-verde è netta e porta le firme di Giacoppo e Gallo che ribaltano il punteggio trascinando la squadra al successo. Esulta la piscina caldarella e se è vero che chi ben comincia è già a metà dell'opera, l'impressione è che dalle parti di Ortigia quest'anno ci sarà da divertirsi.